L'oggetto più vecchio mai aggiunto su Minecraft Nel 2009, più di 12 anni fa, quando Minecraft era ancora nelle fasi molto sperimentali Esisteva la faretra, che serviva per conservare le frecce che ti portavi in giro Con il piccolo problema che non funzionava, quindi la rimossero Nella 1.9 poi sono stati aggiunti tantissimi tipi di frecce Però l'inventario continua ad essere sempre lo stesso, molto ristretto e non ci entra tutta questa roba E anche se è stata rimossa, la faretra continua ad essere dei file di gioco Questo ci fa ben sperare che un giorno possa tornare